Voglio concludere con voi un discorso, se l'integrazione o i muri o l'integrazione al di là dei buonismi o meno, che cosa serve più a rendersi più sicuri? Buongiorno, io oggi a 3 marzo del 2016 ho già fatto un discorso sulla Libia sul fatto che la Libia è stata attaccata dagli americani mi sembra nel 2010 comunque la Libia già nel 21 dicembre 1988 con il volo Pan Am 103 a Lockerbie compì un attentato terroristico abbattendo un Boeing 747 quindi vuol dire che la Libia già dall'88 compiva azioni terroristiche in Europa gli americani lo sapevano e poi la cosa è sfociata nel 2010 con la guerra contro Gheddafi e con l'uccisione di Gheddafi a livello locale, al liceo scientifico d'oggetico masco, tutte le elite locali difendevano i libici dicendo che loro lavoravano con i libici adesso ho capito perché, perché erano un po' a peciccio con la Libia comunque la Libia rimane secondo me un rogue state, uno stato terrorista e secondo me ha ragione gli americani nel far la guerra al terrorismo perché se uno ti butta giù un aereo che vola come il volo Pan Am 103 del 21 dicembre 1988 è chiaro che siamo davanti a uno stato terrorista grazie grazie grazie